Riteniamo che il commercialista, come gli altri attori in campo, possano dare un contributo importante per migliorare ancora di più l'efficienza della giustizia tributaria, che si tramuta sicuramente in un vantaggio economico non solo per il mondo delle piccole imprese, ma anche per i cittadini. Quindi auspichiamo che il legislatore possa mettere mano a questa proposta di riforma.